Ivo, ti ricordi la nostra prima cena? Mi hai cucinato questo hamburger. E ho pensato, vabbè, se ci prova lo rimbalzo. E invece quell'hamburger era buonissimo, succoso, saporito, profumato. E poi me l'hai cucinato con tanto amore e cura, dedizione solo per me. Ivo, ci rifidanziamo? Due hamburger di scottona, per favore. Che benessere! Da Tigros trovi hamburger di carne di scottona allevata in Italia con una filiera di qualità garantita al 100%. Tigros, che benessere!